Vai, vai, attenzione, vai, apri la portiera, apri la portiera, ragazzi. Un'autista dice, ma chi cazzo è questo? Sì, signor Nevio, apri la porta, signor Nevio, prego. Signor Nevio, ragazzi, la stanno aspettando, dottore, prego. Bocca il trofico, blocca il trofico. Fermo le macchine, non deve passare su, prego, signor Nevio. Ascoltiamo, prego. Vada, grazie, eh. Lei non sapeva neanche chi stava trasportando, eh, non lo sapeva lei. Non sapeva neanche chi stava trasportando l'autista. Vada, signor Nevio. Vai, scortato, prego. Il bicchiere già in mano e vai, vai, Nevio.